Buongiorno Daniela, come stai? Buongiorno Lorenzo, bene. Cosa fai qui al mercato di Sant'Ambrogio? La spesa. Non magari una fiction enogastronomica che è un po' la moda del momento. No, guarda, quando si tratta di mangiare niente fiction, io voglio che nel mio piatto ci sia solo roba autentica. E come fai a esserne certa? Dacci qualche dritta. Nell'anno del cibo italiano, il progetto Vetrina Toscana, in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, ha realizzato tre video per celebrare l'eccellenza della gastronomia toscana. I tre video trattano temi importanti come l'anticontraffazione e i prodotti a denominazione controllata e hanno l'obiettivo di insegnare al consumatore come tutelarsi dalle truffe alimentari. Sì, troppe volte ci troviamo a doverci confrontare con prodotti che in realtà non sono autoctoni e semplicemente scopiazzano quelle che sono le nostre grandi eccellenze. Noi dobbiamo essere in grado di difenderle, di difendere le nostre tradizioni e la nostra cultura. Oggi ci si trova a dover affrontare delle sfide fra territori e noi dobbiamo essere in grado di far sì che il nostro territorio, che è pieno di eccellenze, pieno di particolarità, pieno di unicità, sia in grado di preservarle e di portarle avanti. Nel video a tavola niente fiction è protagonista l'attrice Daniela Morozzi e tratta il tema dell'anticontraffazione. Nel filmato Circolo Virtuoso è protagonista invece la ristorazione, in particolare Aimo Moroni, che con la moglie Nadia ha fatto la storia della cucina toscana. Infine, nel video tipico e bello, viene trattato il tema dei prodotti a denominazione d'origine controllata e dei consorsi di tutela. Il racconto di questo legame stretto fra la tavola e il territorio è la narrazione che più affascina di questa storia. La nostra cucina, la nostra tradizione, è parte della nostra storia e del nostro patrimonio culturale ed è al tempo stesso la rappresentazione in un piatto del paesaggio circostante. La cucina toscana è questo. Ogni piatto racconta una storia e racconta un pezzo del nostro territorio. È stato presentato in regione anche il nuovo ricettario toscano 2018, un piccolo volume che raccoglie tantissime ricette tipiche della tradizione toscana, dalla ribollita al peposo, dal baccalà alla fiorentina, alle seppie in insimino e i prodotti che caratterizzano il territorio, come la cinta senese, la cipolla di Certaldo, il marrone del Mugello di Marradi, la finocchiona, lo zafferano e molti altri. Presenti nel ricettario anche le schede dei ristoranti che aderiscono al progetto vetrina toscana e una speciale appendice sui consorsi. Il libro in formato ebook e tutti i video sono disponibili gratuitamente sul sito www.vetrina.toscana.it Quando vai però al ristorante e non cucini tu, come ti regoli? Semplice. Cerco il marchio con la Robbiana. Questo qua, guarda. Così sono certa che il ristorante fa parte della rete di vetrina toscana. Nei ristoranti cercate il marchio con la Robbiana e sarete certi che in quel posto si utilizzano prodotti del territorio.